La Giunta Comunale di Battipaglia ha dato mandato al dirigente dell'Avvocatura di verificare la possibilità di presentare ricorso contro la delibera regionale che ha confermato la realizzazione di un sito di compostaggio per il trattamento di 35.000 tonnellate di rifiuto organico nell'ex stir di Battipaglia. La decisione scaturisce dal mancato accoglimento delle istanze presentate dal Comune ed oggetto di un tavolo tecnico tenutosi lo scorso 19 febbraio. Dopo tale incontro, infatti, Palazzo Santa Lucia ha stralciato la realizzazione dei lavori da eseguire in altri stir, ma non in quello di Battipaglia. Tale modus operandi, si legge nella delibera di Giunta, appare lesivo dell'intera comunità di Battipaglia e sintomo evidente di una enorme illegittima ed ingiustificata disparità di trattamento con altre amministrazioni locali.